Allora noi andiamo a chiedere a Natascia, a Marco, a Filippo se si candidano o se comunque partecipano al voto il 16 dicembre alle primarie del dopo Berlusconi. Ci stiamo pensando, questo è ciao ciao Silvio, dipende dalle regole, dobbiamo vedere le regole direttore perché... Il 16 dicembre è l'anniversario di matrimonio dei miei genitori e io festeggio con loro. Allora Natascia non si può candidare. Poi io sono Svizzera, non mi posso candidare a prescindere. Vediamo se lasciano delle primarie aperte. Poi non sono un amazzone, ti sembro un amazzone, non mi posso candidare. Bisogna capire che notte, direttore, chi l'avrebbe detto solo 24 ore fa che saremmo stati qui adesso a dire Silvio Ripensaci, Silvio Rimani. Poi guarda che Ripensaci non ha detto nessuno, perché anche questa è una notizia. Sulla giornale c'è questo arrivederci, ma è un arrivederci che dice sì abbiamo capito, vuoi portarci in Montezemolo, vuoi mettere monti, ma insomma un Ripensaci non l'ho letto da nessuna parte. Io devo dire un po' ci sono rimasto perché mi aspettavo un po' più di qualcuno che è un pasdarano, uno dice no dai Silvio ritorna rimani, oppure qualcosa di un po' più emozionale. Però Dell'Utri dice in realtà questa sua abdicazione, su Repubblica, la chiama abdicazione e dice in realtà non ci salverà. Ok, quindi insomma... Troppo tardi, vuol dire troppo tardi, capisci? Troppo tardi. Sì, poi parla della delusione di Berlusconi. Beh, Dell'Utri conosce molto bene anche lo stile televisivo, quindi è stata una discesa in campo molto televisiva quella di Silvio, l'uscita di scena doveva essere più tempestiva effettivamente. Beh, il cartonato di Bruno Vespa. Ah, direttore, scusi, è interesse privato, però se Bruno Vespa ci sta guardando, spesso lo fa, volevamo chiedergli ma seriamente il cartonato, il modellino di Berlusconi che aveva ieri sera, che è meraviglioso, lui aveva un cartonato in grandezza naturale di Berlusconi, forse un po' più alto perché era gigantesco, era alto due metri. Era una gigantografia. Una gigantografia, ecco, se ce la regala che noi la volevamo conservare qua nei nostri studi di Caterpillar IEM. Questo, scusi, è una piccola comunicazione di servizio tra Rai e Rai. Ma io penso che Vespa, che ha fatto delle trasmissioni per la ricostruzione dell'Aquila, lo donerà alla città dell'Aquila, non ancora ricostruita, ma... Ma hanno già tanti guagli, anche il cartonato di Berlusconi. No, lo vogliamo noi, lo vogliamo noi. Se ci ascolta Bruno, Bruno ripensaci, no, Silvio ripensaci, Bruno pensaci. Vogliamo noi il cartonato del Presidente. Interessanti le reazioni da sinistra, si può dire, centro-sinistra. Bersani, leggo dalla Repubblica che dice, le primarie del PDL sono una buona notizia, quindi abbiamo segnato la strada, aspettiamo quelle di Grillo. Ma Grillo le fa sulla rete, Bersani. Renzi invece dice, sono curioso di vedere le loro regole, non vorrei che fossero più attenti alla partecipazione di noi. Quindi, insomma, c'è molta attenzione. E c'è, lo dicevamo ieri, in qualche modo l'avevamo preannunciato, tutto questo fermento che prima coinvolgeva solo il centro-sinistra con la battaglia, Renzi, Bersani, Vendola, Puppato. Poi la Lega nel weekend scorso. Adesso travolgerà anche il popolo del centro-destra. Fa un gran bene alla nostra democrazia. È bello, è sano che ci sia. L'ipotesi è anche che si siano messi a fare tutte queste manovre per attirare, comunque le primarie nel centro-sinistra portano voti alla sinistra perché comunque c'è dibattito, uno può scegliere il suo candidato, poi finisce per parlarne. Adesso torni a parlare anche del centro-destra e in questo guadagni i titoli delle prime pagine e Grillo viene un po' messo da parte, perché fino a 15 giorni fa si parlava solo di lui. E beh, diciamo che ritorni a parlare anche tu di politica, ritorni a fare politica e quindi di questi partiti qua e meno di quelli che stanno venendo fuori. E poi il direttore del TG La Setteventana ci ha detto che in questo modo diciamo che si cancella l'ipotesi di un Montibis, nel senso che dopo che dalle primarie di uno schieramento e dell'altro saranno venuti fuori due nomi dei candidati, è difficile poi dire alla gente vabbè abbiamo scherzato, adesso rimettiamo molto. Perché c'è la doppia legittimazione, quella delle primarie e poi eventualmente quella del vincitore, qualunque esso sia, alle politiche, quindi doppia legittimazione contro un tecnico. Posso dire una cosa a proposito di Mentana e di quello che ha detto Mentana? Sai, bisogna vedere se queste saranno primarie di coalizioni o primarie di partito, perché se sono primarie di partito, PDL, e PDL è lontanissimo da poter essere la metà dello schieramento, non è detto che sia così, cioè viene mandato avanti Alfano, probabilmente Alfano, ma come ha detto ieri Napolitano poi bisogna trovare intese, mi spiego? Cioè non è così ovvio, cioè se il sistema, cioè ci c'è una doppia, leggendo attentamente il testo di Berlusconi, c'è un doppio colpo, da una parte dice il bipolarismo l'ho creato io, meno male che l'ho creato perché se no l'Italia sarebbe peggiore, questo populismo lo rivendico a me. Poi dall'altro lato apre a tanti, apre ai cattolici, apre soprattutto a Monti, dice il campione del no al colonialismo tedesco, ha fatto molto, parole testuali, tra virgolette questo molto, cioè voglio dire la sensazione è che sulla scelta definitiva ci sia ancora una grande incertezza, in qualche misura, se poniamo per ipotesi, la scelta fosse stata fatta dopo le elezioni siciliane e sempre per ipotesi, dopo un non successo della lista PD o DC, beh allora lì sarebbe stato un'OPA, un'offerta pubblica d'acquisto, su quella che Schifani chiama la costituente dei moderati, no? Quindi mettiamoci tutti insieme, prima del voto, con un candidato che sia quello che sia e andiamo poi a governare dopo. Si è fatta un pochino prima, può essere usata in due modi diversi, troviamo il nostro campione oppure troviamo un campioncino e poi ci accordiamo. Eh sì, è vero. È molto particolare questa uscita a quattro giorni delle elezioni in Sicilia, nessuno potrebbe venire a me e dire faccio un'uscita così a quattro giorni, ma come scompiglio tutto il quadro, invece no, il direttore ha spiegato proprio il retroscena, così come di retroscena parlava Mentana, perché è vero che il Montibis a questo punto perde un po' di chance, ma come diceva Monti e come diceva Mentana, potrebbe apparire all'orizzonte un Monti ministro dell'economia in un futuro governo, o di centrodestra o di centrosinistra. O di accordone. O di qualcos'altro. O di accordone. Ma anche se è molto interessante questo momento. Ieri Tabacci ce l'ha detto, ragazzi, se c'è un governo con un leader politico, Monti sarà proiettato con grande forza verso il Quirinale. Quirinale. La sopra. Colle più alto. Perché Napolitano ha detto io no, e vabbè, quella è la soluzione. Piuttosto, diciamo, il punto politico è che ieri Napolitano si è battuto di nuovo con forza contro una legge, diciamo, maggioritaria di coalizione, perché ha ripetuto la legge elettorale non può essere la soluzione, dopo, per portare avanti l'agenda Monti, ci vorranno di nuovo accordi destra-sinistra sostanzialmente. Quindi anche questo è una variabile, perché a quel punto, capito come vanno le primarie, che come si fa, si fa l'accordo sulla legge elettorale nuova, cioè le cose che stanno in campo sono ancora piuttosto confuse. Io credo che il ritorno indietro, il passo indietro, serva per aprire un paio di possibilità e per verificare che effetto fa. Ieri in realtà la nota politica l'ha fatta Barbara Berlusconi, che è un po' di fiele del ventino, ha detto, vediamo tutti questi che fanno ora, hanno rotto le scatole, il papà non li sopporta più da quattro anni, credetemi. Berlusconi non sopporta più i suoi da quattro anni. Io mi ricordo, prima ancora di sapere, non sapevo nulla ovviamente, delle Daddario e dei suoi ludi, mi ricordo come li trattava. Un giorno esaltava la Gelmini, poi la Gelmini faceva quella che lui riteneva fosse una sciocchezza, cioè la costringeva a mandare la polizia, a dire sì, mandiamo la polizia davanti alle scuole e Maroni diceva no. Allora Usui si è messo così, durante tutta la conferenza stampa, facendoli imbronciato col ministro Gelmini e dandogli la schiena. Possiamo vederle quelle immagini. Cioè lui già quattro anni fa non li sopportava più. Li considerava tutti dei miracolati, da se stesso, considerava così fini, considerava così i casini, considerava così i suoi, aveva consiglieri che gli parlavano e non li ascoltava. Era disperante l'immagine di questi consiglieri disperati, perché andavano lì a consigliare e lui palesemente non li ascoltava. La Barbara ha detto, beh, ora che fanno tutti questi? Date avanti voi, se siete capaci. Questo che dice lei, il direttore, sottolinea l'intervista che oggi ha a Repubblica Dell'Utri che dice appunto che Berlusconi è deluso, però Dell'Utri non rivela da chi. E di certo non l'ha aiutato in questa delusione la partita che ha giocato il Milanieri, perché quella lì l'avevamo previsto. Ma voi pensate che l'abbiamo fatta apposta questo titolo, scusate, l'hanno fatto persiglio questo titolo. Sì, povero Silvio. Qual è, vediamo? Se ce lo fanno vedere, guardate. La gassi, ecco, povero diavolo. Se vogliamo Silvio è più responsabile di questa sconfitta che della confusione che ha alberga nel centro-destra, perché nel centro-destra lui il suo l'ha fatto, poi non è emerso nessuno alla sua altezza oggettivamente. E certo, certo, certo. Mentre nel Milan invece ha tirato indietro i cordoni della borsa e si è visto subito. Attenzione sul calcio, direttore, perché stasera a Milano c'è un'altra partita importante, non è Champions, vabbè, ma è Europa League, però. Anno sabbatico. Anno sabbatico per l'Inter, però ci sono i tifosi quelli un po' agitati. del partita di Belgrado, due fazioni opposte dei quali si sono date appuntamento a Milano per menarsi. Questi sono gli allarmi che arrivano. Pensi un po' come siamo messi qui sotto la madonnina. tifoserie, dice oggi il Corriere dello Sport, da altre nazioni, dalla Russia, dalla Grecia. Vabbè, ma li fermeranno prima. Speriamo. Spero che l'hanno scritto nei comunicati. Speriamo che arrivi. Tutti sanno tutto di tutti e che facciano qualcosa. Noi pensavamo di andarcene a Torino a questo punto, visto che apre il Salone del Gusto. Eh sì, a farci un giro, a assaggiare il giro del mondo in 80 cibi, come titolava oggi la stampa. Che sarebbe bellissimo. C'è anche... Pronto? Sì? Prego. È arrivata Cinzia Poli. Sì, in realtà oggi sarebbero due, perché ieri sera avevo scritto questa. Berlusconi non si candida e indice le primarie per il 16 dicembre. Renzi ha chiesto quali sono le regole, però è stata superata dalla realtà, in quanto Renzi l'ha chiesto veramente quali sono le regole, per cui pensavo di proporvi. La Biancofiore e le Amazzoni Azzurre registrano Fratelli d'Italia. Brave sul pom-popom iniziale. Abbiamo avuto una doppia, una doppia Cinzia. Bene, grazie, grazie. Viva! Arrivederci. Arrivederci. A domani.